Ciao ragazzi, siamo Leo Street Gorilla, esperti del fitness. Oggi qua in palestra siamo qui per parlare di una cosa che ormai è perché noi siamo stufi, perché tutti quanti pensano che noi facciamo solo calisthenics, colpo libero. Allora, questo qui è un video un po' parlato, avrà anche pochi tagli, avrà poche cose, perché comunque ci siamo resi conto, tanto facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro. Chi siamo? Allora, siamo Domenico e Claudio, siamo Leo Street Gorilla, esperti del fitness. Molti di voi ormai ci seguono da diversi anni, perché comunque siamo partiti con il calisthenics, diario calisthenico, allenarci al parco. Poi piano piano abbiamo realizzato, appunto abbiamo creato la nostra realtà, che è comunque la palestra, abbiamo la palestra di calisthenics più grande d'Italia, però effettivamente non solo, ci siamo resi conto di una cosa importante, perché forse parlare solo di calisthenics è un po' riduttivo. Quando andiamo in giro tutti, ah ma voi calisthenici, ah voi, fammi una bandiera, fammi una verticale, fammi un salto mortale, fammi... no, aspetta, no, ma... cioè, qui c'è un po' di disinformazione, no? Perché tutte le persone appunto ci vedono come calisthenics e per il 60-70% comunque hanno ragione. Tanti tanti anni di esperienza, come diciamo all'inizio, esperti del fitness, non diciamo esperti del calisthenics. Quindi questo video, in realtà, perché è stato fatto? Perché stiamo facendo questo video? Proprio per mostrarvi i benefici del nostro metodo, farvi capire appunto la forza dell'estate gorilla, del nostro metodo, è perché noi abbiamo trasformato centinaia di persone, trasformeremo centinaia di persone, però c'è da dire che un po' è ovviamente stata anche colpa nostra, nel senso che noi abbiamo sempre comunicato il calisthenics, eccetera, quindi è un errore, come adesso va tanto di moda, è un errore di comunicazione, no? Allora, diciamo che la nostra forza, in realtà, è proprio quella, avere, diciamo, potremmo attingere dai nostri anni di esperienza, da diverse discipline, per portarle poi effettivamente all'interno di un metodo che abbiamo ormai consolidato nel corso degli anni. Comunque anche noi stessi come trainer siamo cresciuti in questi oltre dieci anni di esperienza che abbiamo e infatti facciamo un passo indietro, un ulteriore passo indietro. Quando, ad esempio, ai tempi c'era il calisthenics, sono stati quasi i primi a portare questa disciplina in Italia, o comunque a fare questa disciplina in Italia, ai tempi... Primi a fare video, primi a fare gare... Quindi si può dire effettivamente che questo è un po' il cuore della nostra disciplina, però già prima, comunque, di fare calisthenics, noi non abbiamo iniziato sport facendo calisthenics. Cioè, quando abbiamo iniziato a fare calisthenics, noi eravamo già vecchi, noi avevamo già comunque 22-23 anni, le persone che invece adesso sono delle entità, sono comunque esperti, fanno coaching, sono mega atleti, hanno vent'anni, ma loro magari hanno iniziato molto prima, hanno iniziato a 12-13 anni, no? Questo che cosa vuol dire? Che noi, ovviamente, prima di fare calisthenics, facevamo altro. Facevamo palestra, facciamo arti marziali, parkour, quindi avevamo già sviluppato delle competenze, ok, prima di fare questa disciplina, che venivano da altri sport. Questa cosa si denota tantissimo, perché? Perché tante persone, poi, ai primi anni, soprattutto i primi anni, erano molto limitate dal punto di vista dell'insegnamento. Perché? Perché conoscendo solo il calisthenics, poi non avevano magari competenze esterne, ad esempio di bodybuilding, ad esempio di powerlifting e quant'altro. Mentre noi, in realtà, abbiamo iniziato a 15 anni a fare palestra, quindi palestra classica, dai 15, abbiamo fatto 3-4 anni, più o meno. Già quella competenza lì che avevamo sviluppato, cioè ci siamo portata dietro nel calisthenics, no? Abbiamo fatto tante, tante cose, a livello estetico, ma anche a livello, appunto, quando siamo allenati al pugilato, abbiamo imparato anche un metodo di allenamento proprio più HIIT, perché comunque nel pugilato si allena un po' più HIIT. Quindi ci sono tutte cose che ci siamo portati dietro negli anni che, appunto, abbiamo trasferito a tutti i nostri clienti. Sì, sì, assolutamente. Questo perché? Perché, ad esempio, magari molti di voi non se lo ricorderanno, però nel calisthenics prima non si allenavano le gambe. Noi eravamo gli unici, ad esempio, ad allenare le gambe con il metodo del powerlifting. Poi siamo anche formati con Life, con Ado Gruzza, che comunque salutiamo. Insomma, eravamo gli unici a fare calisthenics e ad allenare le gambe. Poi adesso va di moda, perché comunque c'erano la seatlifting, cioè... Con pesi, anche esercizi esplosivi. Ricordo la nostra prima gara, c'erano i box jump, che era una cosa che praticamente nelle gare è sparita ormai da anni, cioè non esiste più. Appunto perché fanno paura, oddio, l'esplosività, le gambe. E devo allenare anche le gambe? Allora non lo fai. Solutamente. Cosa che però, appunto, noi abbiamo sempre fatto, anche perché non allenare le gambe vuol dire essere tagliate a metà, comunque. C'è da dire poi che, ovviamente, il livello di conoscenza adesso si è evoluto tantissimo. Cioè, tante cose che abbiamo dovuto imparare noi anni fa, ad esempio la planche, tante metodiche della planche, tante metodiche del muscle up. Non esistevano. Non esistevano. Quindi la conoscenza ora è aumentata. Cioè, comunque, noi abbiamo imparato delle cose in diversi anni. Adesso un ragazzino di 16 anni le impara in pochi mesi. Proprio perché le metodiche di allenamento si sono evolute. Ci sono più contenuti, semplicemente, da andare a guardare. Tra l'altro i nostri, quindi... Assolutamente. Quindi noi abbiamo imparato veramente guardando nulla, perché non c'era nulla. Forse c'era solo Hannibal King, che faceva già, in questo caso, muscle up, per esempio. Come si fa il muscle up? Boh, si stacca la sbarra e proviamo. Mesi e mesi di prove e prove. Poi quando abbiamo imparato, ovviamente, è fatto magari anche male. Però più a vero l'abbiamo imparato, l'abbiamo consolidato. Perché magari i veterani del canale avranno seguito un po' tutto il nostro percorso. Quindi se andate indietro nel tempo, andate a vedere proprio che avevamo magari appunto 22-23 anni e portavamo sul canale appunto i nostri allenamenti che ci facevamo da soli, sulla base di conoscenze e quant'altro. Siamo comunque migliorati tantissimo, ma adesso ci siamo evoluti. Cioè, intanto, questo poi è un altro discorso, che il calisthenics da questo punto di vista ha preso anche, secondo me, una brutta piega. Nel senso che, questo anche a causa un po' delle gare, il calisthenics, ora, non si è evoluto probabilmente come avrebbe dovuto essere. Cioè, prima, perché la gente faceva calisthenics? Perché era un'alternativa alla palestra classica. Quindi tu cosa facevi? Era bellissimo vedere questi fisici scolpiti che si allenavano a corpo libero, col loro corpo potevano fare delle cose incredibili. Quindi avevi un bel fisico ed eri pure forte, no? C'erano tutte le varianti, archer pull-up, archer push-up, front level races, verticale a muro. Che era il bello, comunque. Era il bello. Essere così versatile e imparare tutte queste cose. Rendeva bello l'allenamento, rendeva bello lo sport, proprio. Perché non lo facevi solo con l'idea di diventare forte a fare le trazioni. Quella era una conseguenza, diventare forte a fare le trazioni, ma c'era tutto un altro lavoro dietro, appunto estetico, forza, divertimento. Perché non dimentichiamoci mai che comunque per allenarsi bisogna anche divertirsi per portare avanti bene le cose. Quello, secondo me, era una cosa che rendeva divertimento, cioè rendeva divertente l'allenamento, perché era vario. Sì, poi se volete, magari anzi fateci sapere nei commenti, se volete parlare dell'evoluzione di come secondo noi il calisthenics sia peggiorato, fateci sapere nei commenti, perché questo qui potrebbe essere un altro argomento. Perché adesso le persone fanno solamente pull-up, dip e push-up. E questa cosa, intanto a livello estetico non basta, perché comunque, sì, ti viene un bel fisico, però non basta, c'è un discorso di punti carenti, c'è un discorso di equilibrio comunque anche muscolare, che viene proprio tolto, perché uno si può facilmente fare in tirata verticale, spinta orizzontale e verticale, ma manca tutta la parte accessoria. Esatto, esatto. Per un'ottica gara può andare bene, se sei un atleta, però comunque ci dimentichiamo che non siamo tutti atleti, non tutti vogliamo gareggiare, e stiamo perdendo appunto il bello del mondo dell'allenamento corpo libero, che è vario, cioè è fighissimo. Quindi tolta questa mega parentesi sul mondo del calisthenics, facendo un ragionamento anche un po' tra di noi, ci siamo resi conto che intanto noi non abbiamo comunque mai perso lo spirito che abbiamo avuto all'inizio, perché comunque la cosa di scoprire l'esercizio nuovo, capire il perché di un movimento, capire il perché di un altro, trovare degli allenamenti sempre più stimolanti, questa cosa non l'abbiamo mai persa. Però, probabilmente, o ha cambiato nome, oppure ha sempre avuto lo stesso nome, ma siamo noi che non gli abbiamo dato questo nome, adesso è un discorso filosofico incredibile, che cosa vuol dire? Che ci siamo resi conto di avere sempre avuto sotto gli occhi un metodo nostro, che si chiama metodo Street Gorilla. Il metodo Street Gorilla che cosa fa? Mira a trasformare le persone mediante un allenamento in realtà completo, funzionale, e quindi l'atleta, ovviamente, e si basa su tre skill principali, che sono il corpo libero, quindi l'uomo deve essere in grado di controllare il proprio corpo, cioè è impossibile che una persona comune in natura non possa tirare su il proprio corpo, non possa fare un piegamento, non possa fare uno squat, quindi anche a livello proprio cettivo, cioè io devo sapere dove sono le braccia e le gambe, perché non è così scontato, sapermi muovere nello spazio mediante il mio corpo. Già facendo così, una volta che io passerò da zero trazioni a due, tre, cinque trazioni, il mio corpo sarà migliorato, però sarò più forte e a livello estetico sarò migliorato, però poi non basta, perché comunque il corpo libero è basta, non basta per aumentare la massa muscolare, ok? Quindi allora ci sono i sovraccarichi, quindi la capacità dell'uomo di spostare dei pesi, quindi seconda skill, la forza, diventare più forti, questo non vuol dire diventare grossi, powerlifter, eccetera, ma mediante l'utilizzo dei fondamentali, quindi squat, panca, stacco, military press, pull up zavorrati, dip zavorrati, quindi l'uomo deve essere in grado di spostare dei pesi nello spazio, perché questo ci darà beneficio anche a livello salutare, cioè se io devo sollevare un oggetto da terra, una busta della spesa, l'acqua e quant'altro, se io sarò in grado di fare uno stacco, avrò meno mal di schiena, avrò un sacco di benefici, posso farlo anche a 50 anni, 60 anni, 70 anni, posso farlo sempre, indipendentemente dal livello, dall'età, dal sesso, anzi devo farlo, questa cosa qua è importante, a livello di salute, non devo sollevare 400 kg, non devo sollevare 10 kg. Per stare semplicemente bene, per stare in forma, e appunto tutto ciò viene vissuto nella vita comune di tutti i giorni, quindi non per forza in palestra, qua andiamo più forti per poi anche vivere meglio. E poi c'è la terza caratteristica che è il cardio, allora il cardio è, diciamo, capacità di recupero, capacità cardiocircolatoria, quindi io, come dico sempre anche nei video, devo essere in grado di fare uno scatto e non avere il fiatone, non svenire, perché c'è gente di 20 anni che magari se deve fare uno scatto per andare a prendere il tram, ha il fiatone, sta male. Oppure magari anche resistenza nel lungo periodo, perché se io vado a farmi una camminata in montagna e dopo mezz'ora mi fanno male le ginocchia, sono stanco, male di schiena, questo è un problema, quindi ovviamente sono tre abilità naturali, cioè semplicissime, niente di così magico, però se una persona abbraccia il nostro metodo, utilizza il nostro metodo che è stato sviluppato, ma negli anni non solo avrà un bel fisico, ma sarà anche più forte, sarà più resistente, sarà più in salute, quindi noi adesso, come abbiamo sempre fatto, ci batteremo per comunicarvi questa cosa, perché vediamo ancora troppe persone che sono molto confuse, quindi questo video in realtà è proprio per spiegarvi questa cosa, voi non dovete vedere le street gorilla solo come a calisthenics, a powerlifting, a streetlifting, noi in realtà facciamo quello che vi serve, il nostro metodo ti basso le tre skill, e qui poi c'è un'altra confusione da togliere, perché se noi siamo in grado di fare tutto, non vuol dire che non siamo in grado di fare niente, perché molti dicono, ma voi sapete fare tutto e niente, noi comunque se una persona viene e vuole specializzarsi in una determinata cosa, siamo tranquillamente in grado di farlo, non hanno dimostrato i risultati, perché abbiamo allenato dei ragazzi nel calisthenics, portandoli a risultati incredibili, sì ma anche in altre cose, sì sì, però adesso infatti arriveremo a tutte le cose, calisthenics, abbiamo allenato calisthenics, facendoli fare endurance cup, strength war, true endurance, abbiamo portato, facendogli arrivare tra i primi posti, oltre che a gareggiare noi, abbiamo portato anche altri ragazzi a gareggiare, perché poi un conto è essere bravi atleti, un conto è essere bravi trainer, ok, sono due cose completamente diverse, anche voi, nella scelta del vostro trainer di fiducia, se volete farvi seguire, state attenti a queste cose, cioè non per forza un bravo atleta, è anche un bravo trainer, questa cosa è molto importante, si può essere entrambi assolutamente, cioè in questo sto spiegando, non per forza l'atleta che arriva primo, è il più bravo a insegnare, magari c'è uno che arriva a quindicesimo, o trentesimo, o magari non fa neanche le gare, però che insegna veramente molto bene, perché appunto è attento a far arrivare te, alla gara come meglio, non lui, quindi è importante capire questa cosa, e poi vabbè, ovviamente anche powerlifting, bodybuilding, insomma, tutte le cardio, l'Irox, insomma, abbiamo diverse discipline, se il vostro obiettivo è stare in forma, stare in salute, avere un bel fisico, non dovete per forza limitarvi a fare solo pull up e push up, perché tanti trainer di calisthenics, che non hanno la competenza che abbiamo noi, vi porteranno a fare solo pull up e push up, e dopo un po' mollate, perché noi avendo anche la palestra ormai da sette anni, ci rendiamo conto che le persone sono motivate, sono cariche, fanno una cosa, ma dopo un po' si stufano, e vogliono modificare gli stimoli, vogliono cambiare gli stimoli, questo non vuol dire che adesso li facciamo fare paddle, li facciamo fare basket, stimoli sempre funzionali, sempre che hanno un obiettivo, quello di mettervi in salute, stare in forma, quindi andiamo a stravolgere le cose, gli strumenti possono cambiare, perché comunque adesso ci sono i pull up, ma se vediamo che c'è un altro esercizio, dobbiamo fare quello che vi serve, ok? Però non cambia il vostro obiettivo, che è quello di avere un bel fisico, facendo così saranno più veloci i risultati, anche lì parliamo di palestra classica, le persone vogliono stare in forma, non li piace allenarsi, cosa fanno? Vanno in palestra, la palestra classica che va a limitare i vostri movimenti, perché andate a fare movimenti guidati, sui macchinari, sui macchinari, questo non vuol dire che non servano, stiamo dicendo che il macchinario è il demonio, non va utilizzato, dipende sempre dal vostro obiettivo, cioè se voi non fate bodybuilding, perché il macchinario è nato per chi fa bodybuilding, che fa magari un'ipocalorica, quindi magari a dieta, non può spingere il pesone, e va a usare il macchinario, ma se voi non sapete dove sono le braccia e le gambe, non sapete fare una trazione, cosa andate a fare il macchinario ragazzi, non vi serve, lo farete magari più avanti, perché non è che se sentite il muscolo bruciare, allora state lavorando, anzi magari non serve, perché prima vi annoiate, e secondo non imparate niente. Sì, dopo un po', come stava dicendo voi prima, potrebbe succedere che mollate, perché fate sempre la stessa identica cosa, e di fatto non state imparando niente, non è che avete imparato una dote, una skill, un qualcosa che dici, cavolo so fare questa cosa, cavolo so fare quest'altra, mentre appunto qua in palestra da noi, unendo tutte le varie cose che facciamo, perché ovviamente noi riusciamo anche a unire le cose, non perché se uno, per esempio, facciamo finta, fa calisthenics e non può farsi un circuito di Irox, o perché non fare un circuito di calisthenics mixato con l'Irox, e sparo, e adesso a barpees con i pull up, non si è mai visto in una gara di calisthenics, invece noi lo facciamo, perché appunto questo per noi è un allenamento, ma anche magari per chi non sa l'Irox, che cos'è, potrebbe essere pull up, corsa, barpees e squat e slitta, mix di esercizi, è un mix, che questo non è crossfit, anche come molti dicono, ma cos'è un crossfit dei poveri, no, non è un crossfit dei poveri, perché il nostro metodo è studiato sulla tecnica, nel crossfit l'obiettivo è un cardio con i pesi, cioè l'obiettivo è avere un V a 2 max a molto alto, e diciamo allenarsi in poco tempo, è proprio completamente diverso anche il mondo con cui alleniamo, perché noi miriamo a aumentare i vostri parametri allenanti, cioè che cosa vuol dire? Se voi entrate in palestra a noi e avete zero pull up, zero trazioni, noi dobbiamo lavorare per farvi diventare più forti e insegnarvi le trazioni. Se voi non avete uno squat, non sapete fare uno squat col peso, non vi mettiamo sul macchinario a fare la leg extension, ma prima dovete imparare a corpo libero a muorvi nello spazio. Poi piano piano imparare la tecnica dello squat, che non è scontata, quindi lo squat fatto bene, non come si vede nelle palestre anni 80, metodi ormai anziani, vecchi, e poi piano piano diventare più forti. Questo che vuol dire che entrate qua, che siete scarsi, siete grassi, siete brutti, siete troppo magri, siete poveri, e ovviamente poveri, ricchi non potete diventare, belli non potete diventare, però potete diventare sicuramente più in forma, più forti, e c'è gente che magari ha anche 70 anni, 50 anni, 18 anni, entra che ha zero trazioni, zero piegamenti, non sa fare uno squat, non è coordinato, esce che è coordinato, più forte, più in forma, e si è divertito. Si è divertito, ovviamente sarà più povero, perché ci avrà pagato, perché a me facciamo le cose gratis, però comunque salite contenti, quindi questa è la cosa importante. Diciamo che quel prezzo lì, secondo me è da pagare per la propria... Eh, perché quanto vale guardarvi allo specchio ed essere in forma, ragazzi? Quanto vale? Noi costiamo veramente poco, perché poi uno pensa, ah, sì il gorilla che sa quanto costano. Allora, noi possiamo allenarvi sia dal vivo che online, quindi se chi riguarda questo video, se vuole essere allenato a noi, vuole provare il nostro metodo, può essere seguito anche online, vendiamo anche i programmi di allenamento predefiniti. Se invece magari volete venire qua a provare, siamo a Rozzano, probabilmente, a Milano, anche lì, molti non sanno che siamo a Rozzano, siamo a Rozzano, Milano Sud, ok? Non mi succede niente se avete a Rozzano, non vi preoccupate, perché molti hanno anche paura di sta roba. Anche perché non siamo nel Bronx. No, siamo nel Bronx. È la nostra zona è bella fuita. È bellissima, Rozzano, in realtà. Ho comprato casa qua, quindi se l'avrei comprato, sarei del Bronx. E niente, intanto, fateci sapere anche nei commenti il perché voi mi avete iniziato a seguirci, il perché ci seguite, se qualcuno di voi magari fa il nostro servizio di coaching, fateci sapere come vi trovate, così almeno facciamo sapere anche agli altri. Però diciamo che, cosa c'è da portarsi a casa da questo video? È che noi non volevamo comunicarvi questa cosa, nel senso che togliere un po' di confusione, farvi capire che noi siamo bravi sia ad allenarvi in maniera specializzata. Quindi se una persona vuole gareggiare in una determinata disciplina, c'è un tipo di allenamento che bisogna fare. Ovviamente, se uno fa powerlifting, non ti mettiamo i barpees. Se uno fa streetlifting, non ti facciamo andare a correre. Però se uno viene qua e vuole avere un bel fisico, vuole stare in forma, vuole essere in salute, non ti facciamo fare solo powerlifting, ti facciamo fare una serie di cose, in base a quello che ti serve, in base a quelli dei tuoi obiettivi. Questa cosa è una grande differenza tra noi e tutti gli altri, la nostra capacità di saperci adattare al vostro obiettivo, di essere bravi sia nella specializzazione che nel unire un complesso. Noi diciamo sempre, il trainer è come se ha un mazzo di carte e usa le carte necessarie in base alla persona che ha davanti. Quello che dicevo all'inizio è tante persone, magari tanti trainer, sono ultra tecnici, miga, mille lauree, mille robe, però poi non hanno empatia con il proprio cliente, il proprio, diciamo, atleta. Questa cosa, un'altra cosa importante, perché il trainer deve essere quasi uno psicologo. Cioè, a volte ci rendiamo conto che basta una pacca sulla spalla, uno sberla di senso buono, oppure magari dare un contentino. Quindi magari anche l'esercizio che non è necessario, però magari ti dà un po' lo stimolo mentale, a volte... Sì, sì, perché capita che purtroppo si perde l'attenzione, si perde il focus, quindi essere amari troppo così non va neanche troppo bene, però riuscire a essere, diciamo, fluidi nell'allenamento, questo è quello che secondo noi è più importante. Sì, diciamo che non abbiamo inventato niente di che cosa, però abbiamo unito tanti pezzettini come se fosse un puzzle per creare un metodo, si può dire anche rivoluzionario, ma in realtà non è niente di così magico, perché non esistono le magie, quindi non è che mi stiamo qua a prendere in giro, però la nostra esperienza ci ha permesso di poter trasformare le persone, questo è quanto. non siamo anche solo quelli di workout a 8 minuti, perché workout a 8 minuti in casa, sì, perché ovviamente... Quello serve per farvi cominciare a muovervi, ad allenare, non so se l'avete mai capito, però in realtà serve quello, per farvi inserire una routine e dire ok, lo faccio tre volte, quattro volte a settimana, questo è un ottimo modo per cominciare con gli allenamenti, che poi ovviamente pian piano dovrebbero aumentare. E su questo abbiamo creato appunto anche un secondo canale, per chi non lo sapesse, Street Gorilla Workout, quindi se voi ci avete seguito magari durante la pandemia, ormai che vi si ricorda con gli allenamenti, abbiamo creato un canale a parte con tutti gli allenamenti da fare in casa o in palestra da 8 minuti, mentre questo rimane ancora un canale sul fitness, vlog, intrattenimento, insomma, abbiamo fatto questa bella lezione adesso gratis, quindi voi adesso dovete fare una bella roba, dovete iscrivervi al canale, almeno quella ragazzi, lasciate un like al video, venite a trovarci in palestra se siete qua di zona, se non siete di zona chiedici delle info appunto. Anche perché adesso che viene, anzi, mi dimenticavo di una cosa importante, perché questo video quando uscirà, molti di voi non lo sanno, ma la leggenda narra che se farai almeno un push up sotto l'occhio del gorilla, potrai fare qualsiasi cosa nella vita, quindi voi potete venire da ogni parte d'Italia a fare, almeno poi chi ne ha di più, ne fa di più, a fare un push up sotto l'occhio del gorilla, perché comunque questa cosa vi porterà un sacco di fortuna. se volete fare un massimale magari riuscire a farne anche qualcuno in più. Così vi guarderà lui, sarà lui il giudice e niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga. Ciao, 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 ciao,